Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, quest'oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno degli 11 ex comuni annesti nel 1923 al comune di Milano. Come sempre, buongiorno Walter Cherubini, consulta Periferie Milano. Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati. Ben ritrovati nel comune del... Vigentino. Oh, e quest'oggi ci porterà chi? Presentati, perché tu sei... Amedeo Iacovetti. Ti hanno detto il sindaco del Vigentino. Sì, è eletto dal popolo senza scadenza di mandato. Ok, e dicevi appunto, ti chiami? Amedeo Iacovella. Amedeo Iacovella, hai un passato da consigliere di zona, sei attivo diciamo nel quartiere e tant'è che appunto vieni definito da molti il sindaco del Vigentino. Sì, chirurgicamente. Allora a questo punto dico sindaco, non c'è più il suo comune però, com'è questa storia? È apparito purtroppo, c'è un bombardamento, l'ha tirato giù e qua dietro era la sede del comune. Ecco, perché a differenza di altri comuni in cui siamo stati, ora quartiere di Milano, la sede del municipio del comune del Vigentino non c'è più e si trovava proprio qui alle nostre spalle dove adesso c'è la caserma dei Carabinieri. Qualcosa però di quello che fu e che era il comune invece del Vigentino rimane, perché ad esempio da quest'altra parte invece abbiamo ancora una delle poche case rimaste dell'epoca diciamo. Diciamo sì, adesso è adibito a ristorazione e abitazione però questo è diciamo una delle poche abitazioni rimaste in zona. Ok, allora questa appunto è via Ripamonti, qui siamo all'angolo con via Noto, conosciuta, direi nota a questo punto, da molti studenti delle università che appunto vengono qui perché c'è un distaccamento dell'università statale che rende molto vivo anche questo quartiere, no? Eh sì, sì, da quanto appunto l'università statale con quella specializzazione si è situata qui c'è una buona presenza di ragazze e ragazze purtroppo che non sono stanziali per molti, però nell'altra parte della zona dove ci sono università, c'è Boccone ed altri, c'è tutto questo quartiere soprattutto con le novità, delle nuove attività e imprese è molto frequentato da ragazzi giovani, ci sono degli studenti alti. Qui invece diciamo sono più studenti che vengono a fare la loro lezione e con il 24 se ne ritornano in centro nelle loro abitazioni. Walter, il vigentino, allora collochiamolo anche un attimo geograficamente per far capire meglio. Siamo a sud di Milano, nella parte sud-est di Milano, collegato al, diciamo così, idealmente all'antico comune di Chiara Valle Milanese. Confinavano qui? Perché confinavano, dopodiché invece sulla parte, guardando geograficamente sulla parte occidentale, abbiamo la sciabolata dei Corpi Santi che arriva fino a Rozzano nella sostanza e quindi è una sorta di propagine che appunto venne aggregata nel 1923. Ha mantenuto una propria caratterizzazione, ma è interessante quello che diceva Iacuela prima sul tema anche degli universitari, della frequenza, perché apre un aspetto molto importante per la nostra città e noi diciamo anche per rigenerare anche umanamente quello che è l'area periferica, perché la città di Milano sicuramente ha una sedimentazione un po' anziana e quindi c'è questa possibilità ma anche di rigenerare abitando la città. Adesso si diceva qui i ragazzi vengono, studiano e poi se ne vanno via, ma se noi teniamo conto che abbiamo una media stimata di circa 80.000 studenti fuori sede, vuol dire che questi in primo luogo vengono in una nuova città e questa città come li accoglie. Lasciamo stare per il momento il tema dell'abitare, dell'abitare dal punto di vista dove vai a abitare, dov'è il tuo tetto, ma anche questi vengono da, anche dall'estero, ma anche da cittadine nostre italiane dove magari svolgevano un certo tipo di attività, chi faceva teatro, chi faceva musica, gli faceva magari anche il doposcuola. Allora c'è una realtà cittadina che li accoglie e li indirizza dove per esempio loro abitano? Per fare che cosa? Per loro continuare quel tipo di attività ludica per certi aspetti, ma che potrebbe realmente integrarsi anche se magari per periodi di due, tre, quattro anni, che però sono significativi, in quelle che sono le normali attività cittadine che molto spesso vengono fatte da anziani e quindi potrebbe esserci un'integrazione. Pensiamo alle compagnie teatrali amatoriali, per esempio. Quindi questo è uno dei temi che Milano si deve porre proprio per, non per dare un tetto, un aiuto, ma per avvalersi di questo contributo che potrebbero dare. È un tema però che non è svolto. Bisogna svolgere, il titolo c'è, ma lo svolgimento no, come si dice in questi casi. Non c'è lo svolgimento, ma lo riprenderemo. C'è un avvio dici però? Sì, c'è un avvio perché qui sta per sorgere uno studentato enorme, qui in fondo angolo via Lisonzo e poi una volta ultimato l'utilizzo nel 2026 della cittadella olimpica, buona parte lì verrà riservata sia ad abitazioni, a residenze, ma soprattutto a residenze giovanili. Per studenti o comunque social housing, come viene chiamato adesso. Noi stiamo appunto camminando su quello che adesso è via Ripamonti, ma il comune del Vicentino era un grande comune, proprio anche molto esteso, che andava verso fuori Milano e andava verso quella che forse era una delle parti più agricole, altrettutto, della nostra città ancora oggi, no? Questo mantiene ancora un'anima agricola, la parte più a sud, giusto? Tutelata dal parco sud, tutelata dal parco sud, questa è stata nostra fortuna perché i vincoli non hanno depredato luoghi importanti, storici di questo pezzo di territorio di Milano. E cos'altro possiamo dire invece sul Vicentino, ma soprattutto sulla differenza che aveva il Vicentino di allora, quindi ricordiamo 1923 e invece 2023? C'è tutta una parte che non esisteva, una sorta di nuovo Vicentino che non esisteva? Sì, completamente trasformata perché appunto prima era realtà agricolo rurale e adesso sono sediamenti abitativi del tutto nuovi, ad esempio laggiù in fondo c'era una cascina grandissima, era tempestata di cascine in questa zona, e di là alcune sono rimaste poche, altre no. Vi farei vedere una chicca di cui parlavo prima, ed è qui la scritta... Allora, prima ti chiedo un'altra cosa invece, ti chiedo Angelo di far vedere questo cartello che ci ha scritto, che ci è stato attaccato qua, no? No, chissà chi l'avrà attaccato, ma chissà mai, vediamo un attimo qua Angelo, guarda un po' chi l'ha attaccato. Ah, che cos'è? Contaci un po' che cos'è questa iniziativa. È un'iniziativa fatta da singoli o da gruppi di cittadini che hanno adottato un parco, una via, e che fanno attività di volontariato per raccogliere residui e... E com'è che vi siete chiamati? Gruppo Ramazza Vicentino? Sì, Gruppo Ramazza Vicentino. Dove Ramazza sta sia per la Ramazza che per Ramazzare Verbo, immagino, giusto? Sì, sì. Ok, dice Michele, ci stai portando a vedere che cosa? Una scritta... Ah, eccola qua, eccola qua. Vietato lo scarico delle immondizie nel... Fossi laterali alla strada. Quindi qui passava un corso d'acqua, crediamo Vettabbia, e quindi è un problema secolare. Noi non vogliamo risolvere i problemi secolari, però tentiamo di fare deterrenza e educazione ambientale. Siamo passati dai fossi laterali ai cestini del Vicentino. Va bene, ma andiamo invece, torniamo in Via dell'Assunta, che appunto è la traversa di Ripamonti. Beh, ma già il nome ci fa capire verso cosa stiamo andando, giusto? Eh sì, verso un luogo storico importante, diciamo che è quel che è rimasto più significativo del Vecchio Vicentino. Ok. È una chiesa con degli affreschi interni bellissimi, pieno di storia. Qualcuna lo fa risalire al 1100 e poi ci sono state una serie di trasformazioni, però per fortuna è rimasto un nucleo di riferimento della zona e non solo di culto. Ecco, adesso noi andremo più verso la piazza anche per capire un po'. Sì. Questo potremmo definirlo un po' quello che era il vecchio centro del Vicentino, no? Tra la piazza, il comune dove eravamo prima, qui c'era tutto il vecchio centro. Che diciamo non è più quello attuale però invece. No, qui è appunto solcato di rogge e la vettabbia era la cella principale. Ecco, la cosa interessante è che adesso andremo a vedere, quella piazza lì è praticamente un parcheggio a cielo aperto. Siccome appunto questa zona soffre di un luogo di aggregazione come una piazza, è un quartiere senza piazza. Adesso si stanno facendo dei tentativi di recuperare dei luoghi e renderli più soffruibili ai cittadini, a comunità anche ristrette. Uno degli interventi che sarà previsto è quello di fare una piazza, quindi eliminare parcheggi e renderla vivibile e farlo diventare un centro. Ecco, soprattutto questo non è tanto eliminare il parcheggio, che poi devo dire che qua nella via qualche parcheggio si vede libero, quindi vuol dire che il grosso problema non ci sono forse. Ma soprattutto è quello di ridare questi luoghi importanti, luoghi storici della città di nuovo alla città, ai cittadini soprattutto e alla socialità e all'utilizzo da parte dei cittadini. Perché poi è quello, no? Cioè se noi li utilizziamo, come dici sempre tu, poi ce ne prendiamo anche cura. Ma diciamo se li conosciamo in primo luogo, perché il dato che continuiamo a dire è che i milanesi non conoscono Milano, ma questo lo diceva già Bonvesin dalla Riva nel 1288, che diceva non solo gli stranieri ma anche i miei concittadini dormono nel sogno dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano. E' per questo che abbiamo anche attivato mensilmente le giornate periferie Artmi, Antichi Borghi e nuovi quartieri della periferia milanese, perché ci sono tantissime cose da vedere. Pensiamo che ci sono le giornate FAI che hanno una loro validità sicuramente significativa. Ecco, ci sono poi tutta una serie di realtà da conoscere, proprio che passano inosservate rispetto a questi che sono i grandi flussi comunicativi. Ecco, c'è allora il tema della città abitativa. La città abitativa che ha, uno, luoghi dove si può abitare tranquillamente, due, anche dei beni culturali che possono essere visitati, raccontano della storia, ma ci sono anche accompagnate delle realtà sociali. Pensiamo a questo 1923, centenario degli antichi comuni milanesi, dove noi abbiamo delle realtà sociali, la banda d'Afori piuttosto che la banda di Crescenzago, oppure abbiamo la croce verde Sempione che si chiamava Musocco una volta, piuttosto che la croce verde di Baggio. Ecco, questa è la realtà sociale che ha attraversato cento anni di storia e quando parliamo di identità non è una cosa strata, ma veramente questi qui sono la personificazione della identità che mano a mano si trasforma, ma sempre attenta a dare un aiuto alla città. E nel frattempo siamo arrivati appunto davanti alla Chiesa della Sud, quindi Angelo ti chiedo di seguirmi proprio e facciamola vedere appunto questa chiesa con questa piazza, che effettivamente adesso, anzi mi viene da dire, è uno spartitraffico, non è neanche più una piazza. No. Perché chiamano piazza della Sud, ma è uno spartitraffico, tutti gli effetti. Invece l'idea sarebbe quella appunto di restituirla alla cittadinanza e restituirla ai cittadini. Valter diceva che i milanesi conoscono poco Milano, quelli che abitano il Vigentino lo conoscono il Vigentino? Non molto, a dire la verità, perché proprio un po' di giorni fa c'è stato un convegno molto interessante, con una ricostruzione storica di alcuni accademici, proprio per ragionare e far capire alla cittadinanza il significato e la storia del Vigentino. però la partecipazione non è stata all'altezza dell'impegno che si è messo nell'organizzare questo convegno. In linea di non solo dell'impegno, ma delle importanti notizie che voi date, dell'utilizzo anche poi di queste nozioni che voi potete raccontare all'interno di questi convegni per conoscere appunto meglio il loro territorio. Che poi lo sappiamo, conoscere meglio il loro territorio vuol dire anche viverlo meglio, affezionarsi, prendersene cura, prendersene cura come dice spesso, che una cosa che deve fare sicuramente l'amministrazione, sicuramente gli amministratori municipali, ma che se cominciassimo anche noi intanto a farlo, anche a prenderci più cura anche noi cittadini, sarebbe interessante. C'è da dire che, e credo che anche il Vigentino sia prova di questo, tantissimi cittadini della periferia milanese si prendono cura della periferia. Ecco, quello che manca è proprio una connessione di quelli che si prendono cura, ma anche delle realtà comunali. Noi diciamo, 1923, che cosa ho voluto, che data significativa è questo 14 dicembre che nessuno conosce, anche perché non è insegnato a scuola, questo qui è il primo dato. C'era un'amministrazione, c'era un sindaco e c'era anche una giunta. Qual era la priorità di questo sindaco? Era quello del Vigentino. E quindi lì muoveva tutta quanta la sua attenzione. Cento anni fa sono state, diciamo pure, spazzate via le amministrazioni cittadine. Si sa come aveva agito? Il Vigentino ci stava a questa annessione oppure... C'è qualche difficoltà l'ha avuto nella annessione. Non era tanto per la quale, come si dice. Aveva una struttura così autonoma e anche un'attività molto interessante, perché gli derivava appunto da questo collegamento con la parte agricolo-rugale e allora era... Era un comune ricco anche un po', diciamo, quindi riusciva a... Abbiamo capito che c'è questa cosa, cioè i comuni ricchi non volevano andare con Milano. Quelli che erano un po' scappestati e messi male, ben venga Milano. Abbiamo capito che insomma è un po' un'opportunità per alcuni. Erano, diciamo così, considerazioni di cento anni fa. Oggi dobbiamo dire che le scelte che vennero fatte, se Milano è così attrattiva, tutto sommato non sono stati sicuramente negative. Nello stesso tempo però sono rimasti dei vuoti. Perché? Perché il tema è organizzativo. Al di là del senso che uno può avere di autonomia, autoreferenzialismo oppure no, ma il problema è organizzativo. Se del vigentino oggi si deve curare il sindaco di Milano, come 150 anni fa quando c'era il comune di Milano che era grande 9 km quadrati, mentre adesso è 181 km quadrati, è chiaro che quel sindaco quando si sveglia la mattina che cosa curerà? Curerà Piazza della Scala e dintorni e poi mano a mano andrà. Quindi noi parliamo oggi di città policentrica, ma se non c'è un'amministrazione organizzata policentricamente, la città policentrica non ci sarà mai. Sarà solamente un'affermazione di principio oppure la considerazione perché fanno un grande grattacielo e dicono quello lì diventa un nuovo centro cittadino, ma poi non è così, non funziona così, perché c'è la vita quotidiana che deve essere anche gestita e aiutata. E anche aiutare chi aiuta, perché altrimenti rimangono tutti fatti isolati che a Milano noi abbiamo 400 presenze culturali fuori dal centro, ma non si sa nemmeno che esistano. E lo vediamo anche dai bilanci, ma non entro nel merito in questo caso. Ecco che allora il 14 dicembre 1923 rispetto al 2023 che cosa può diventare? Può diventare l'introduzione di una piccola norma organizzativa che dice che tutti i servizi comunali che operano sul territorio, per esempio qui siamo nel Municipio 5, rispondono al Presidente di Municipio. Perché così si trova un coordinamento? Perché oggi noi abbiamo una struttura organizzativa cosiddetta canna ed organo, dove una canna non parla con l'altra. Si dice sempre facciamo sistema, ma il primo organizzativamente che non lo fa è proprio il Comune di Milano. Perché l'organo può fare gli accordi, quindi può far suonare più canne insieme, invece qui non viene fuori l'accordo. Il Municipio potrebbe essere per certi aspetti l'organista di tutte queste canne d'organo. Eto Municipio 5, uno dei municipi più ampi della città di Milano, anche bello popoloso però. No, ampio sì, ma non è il paragono, è 123.000 abitanti. Capite, però aspettate, attenzione, ha detto, no, non è uno di quelli popolosi, 123.000 abitanti comunque. Cioè, qual è la città di Pergamo? Rispetto agli altri municipi, credo che sia il penultimo. Sì, sì, no, è il penultimo, poi dopo arriva il Municipio 1, però è invece a livello di area uno dei più estesi, perché appunto c'è l'area agricola. Però stiamo parlando, ok, solo 120.000 abitanti. Quanti nel Vigentino più o meno? Nel Vigentino? 100.000 solo nel Vigentino più o meno, perché poi è quasi tutto Vigentino. No, è un po' meno. Cioè, Vigentino diciamo che è un... perché poi la zona 5 significa, cioè Gratosoglio significa il Bellezza, la parte più centrale, possiamo dire che sono 40.000 abitanti il Vigentino. Insomma, una bella fetta di città, un quartiere infatti importante. Se vogliamo sapere di più anche sui convegni, il punto di cui parlava, se come possiamo fare, noi possiamo trovare qualche informazione in più? Avete dei siti? Cioè, noi personalmente no, credo che sul Comune, nella ricostruzione del Centenario, si trovano tutte le... C'è un video che hanno proiettato un po' di... Che cosa si auspica per il futuro invece del Vigentino? C'è uno sviluppo un po' più armonico, perché le potenzialità ci sono tutte. Io credo che nel giro dei prossimi 10-20 anni tutta questa zona verrà completamente trasformata, perché gli interventi che sono previsti, simbiosis, scalo romano, ridisegneranno, già in parte lo stanno facendo, perché le attività che si svolgono sono legate alle attività intorno alla moda, al design, e poi sorgerà tra breve, finalmente, dove prima esisteva l'ex Pirelli, una fabbrica storica del Vigentino, sorgerà una struttura moderna, un incubatore rivolto alle attività innovative e prevalentemente giovanili, Smart City Live, che darà un impulso produttivo e credo che si ridisegnerà anche le attività commerciali, che sono quasi sparite lungo la tratta. Ok, cioè lungo la tratta dei Ripamonti? Di Ripamonti. Ok. Quindi attendiamoci grosse trasformazioni. Insomma, le trasformazioni possono essere buone o non, speriamo che vengano fatte bene e so che... E soprattutto direi con una gestione, cioè altrimenti noi mettiamo dei punti particolari nella città e pensiamo che poi il punto particolare trovi sviluppo o connessione e invece non funziona in questa maniera qui, per quello che bisogna anche un po' ragionare quel punto lì come si connette con il rimanente. Altrimenti rimangono le famose celle dell'alveare che tra loro non si parlano, come diceva un'indagine Ipsos di qualche anno fa. Chiarissimo. Bene. Il ruolo di Ammo? No, infatti a Regione, quando si dice che devono essere potenziate con risorse e con deleghe, le attività del municipio. Come sempre, sempre li finiamo. L'importante è dare i giusti poteri e anche i giusti soldi, così che possano farli funzionare, alle realtà municipali, soprattutto noi, gli otto municipi periferici alla città, che sono quelli appunto con cui noi spesso interi poi interloquiamo e che capiamo l'importanza. Non devono essere semplicemente l'ufficio reclami del Comune di Milano dove la gente vada solo a reclamare quando qualcosa non funziona, ma possono e devono diventare, e possono diventarlo, perché qualche prova ce l'abbiamo, anche degli uffici che propongono e che fanno, e che fanno anche molto bene per la città di Milano. Dal Vigentino è tutto. Allora, io la ringrazio tantissimo, ringrazio il nostro ospite per averci guidato appunto in questa breve visita, ma intensa, del Vigentino. Grazie mille davvero. Grazie a voi. E grazie anche a te, Valter, come sempre, per le puntuali punti, tu metti i puntini sulla periferia, non su lei. Sì, appunto, i municipi non possono essere delle antenne. No. Sono chiamati come il decentramento di 50 anni fa che li ha introdotti chiedeva il governo del territorio. governare davvero il territorio. A partire dai servizi comunali che sono numerosi, ci sono, ma ripeto, ognuno fa da sé. No, no, invece il municipio deve, cosa che oltretutto viene anche lamentata e riclamata anche dagli stessi presidenti attuali, da quelli precedenti, da quelli del colore del sindaco e da quelli del colore non del sindaco. Quindi, chiunque ha governato prima le zone e poi i municipi dopo ha detto abbiamo bisogno di più poteri, abbiamo bisogno di più deleghe, abbiamo bisogno anche di essere considerati di più. E noi speriamo che prima o poi riusciremo a raccontarvi questa storia. Dal vigentino, come diceva, è tutto. Grazie mille. Alla prossima.